In arena P.A.R. Zanpec-Isneti, Cavaliere e proprietario Mirko Loccisano. Si tenga pronta la pastiera 249, seguirei da 81. Si tenga pronta la pastiera 249, seguirei da 81. Si tenga pronta la pastiera 249, seguirei da 81. Si tenga pronta la pastiera 249, seguirei da 81. Si tenga pronta la pastiera 249, seguirei da 81. Si tenga pronta la pastiera 249, seguirei da 81. Si tenga pronta la pastiera 249, seguirei da 87. Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.